ciao Matteo tutto bene grazie hai ragione però comunque credimi resta comunque difficile convincere clienti a spendere di più ciao Matteo come va quello dimmer guarda un vero successo i clienti sono soddisfatti per il comfort risparmio energetico gli impianti più valore per noi valgano di più ma dai non prendermi in giro lo sai che è un rio